Ben ritrovati a tutti ragazzi, ciao, mi perdonerete se avrò un po' la voce, non proprio delicatissima oggi, ma ho un po' di mal di gola e stamattina facevo anche proprio fatica a parlare, quindi proviamo a registrare questo video sperando che vada tutto per il verso giusto. Allora, secondo Gianluca Di Marzio ieri sera in trasmissione su Sky, Douglas Luiz è uno di quei nomi per il centrocampo della Juventus che ipotizzando una formazione da poter scrivere già ad oggi, all'11 di giugno, nelle 24-48 ore che ci separano dall'annuncio di Tiago Motta, Douglas Luiz è uno di quelli che potresti già inserire, non perché sia stata fatta, non perché sia conclusa questa operazione di mercato, ma perché è uno dei nomi su cui la Juventus sta lavorando in assoluto di più. Proprio ieri avevamo parlato della possibilità di inserire anche all'interno della trattativa non solo McKennie ma pure Iling Junior e ieri sera Di Marzio va a spiegarci quella che dovrebbe essere a grandi linee la proposta della Juventus. E quindi sì, McKennie, sì, Iling Junior e in aggiunta 20 milioni di euro. Ora, fermiamoci un secondo, perché ho letto in giro per l'internet, in giro tanti commenti inerenti proprio alle parole di Di Marzio e le categorie di commenti si dividevano perfettamente in due. Da una parte quelli che dicevano che era assolutamente esagerato, perché si parla di due giocatori più 20 milioni per uno solo, dall'altra parte quelli che dicevano è praticamente un regalo che la Stone Villa sta facendo alla Juventus. Voglio elencarvi alcune cosine e poi vi dico la mia opinione. La Stone Villa deve monetizzare entro il 30 giugno per un discorso di fair play finanziario legato alla Premier League, all'iscrizione. Quando nelle ultime 24 ore abbiamo parlato così tanto di soldi legati al calcio, ecco che torna fuori quella tematica, quell'argomento, quel ritornello, quella tarantella, i soldi, i soldi che muovono il mondo. Sempre nella stessa trasmissione era presente Marianella, lo conoscerete tutti, è uno che è diventato leggenda ormai per le telecronache fatte a Didier Drogba, un giocatore meraviglioso che diventava ancora più meraviglioso quando era commentato proprio da Marianella. Marianella è un uomo di sport, un uomo di calcio, un uomo di Premier, ha detto confermo quello che dice Di Marzio, cioè che la Stone Villa ha necessità di cedere, ha bisogno di soldi freschi, ha bisogno di mettere a bilancio anche delle plusvalenze entro il 30 giugno, quindi la Juventus sta giocando molto su questa roba qua, ma sono stupito perché per me sarebbe un colpaccio clamoroso da fare non oggi ma da fare ieri e se si tratta solo di 20 milioni in aggiunta a quei giocatori, secondo me la Juventus avrebbe potuto aggiungere anche più soldi. Se davvero Giuntoli riesce a fare questa trattativa con McKennie, Ealing e 20 milioni, fa un colpo allucinante perché, testuali parole a Marianella, Douglas Lewis è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Aggiunge Marianella, è un giocatore che ha tanto mercato anche interno alla Premier League, so che lo voleva l'Arsenal, se ne era parlato, ma la Stone Villa chiedeva 60-70 milioni di sterline. Ora, la Stone Villa è arrivato quarto in Premier League, quindi l'anno prossimo giocherà la Champions League. Stiamo parlando quindi di una squadra che ha utilizzato le caratteristiche di questo giocatore per raggiungere un posizionamento molto importante all'interno del campionato inglese, che è un campionato, direi, discretamente complicato. Se vogliamo fare un parallelismo, dato che Douglas Lewis ha pure segnato tanti gol all'interno di questa stagione, potrebbe essere considerato un centrocampista la Cobb Mainers per quanto riguarda la Premier, non tanto per posizionamento, perché Douglas Lewis è un centrocampista centrale, può fare la mezzala, forse si trova più a suo agio come mediano nel 4-2-3-1, mentre Cobb Mainers, se sì, può giocare lì, ma è un giocatore più offensivo, tant'è che con Gasperini faceva il trequartista di destra o di sinistra, o può essere banalmente il trequartista di un 4-2-3-1 e quindi andrebbero ad incastrarsi perfettamente nell'idea di Tiago Motta, nello scacchiere di Tiago Motta. Quindi, è il Cobb Mainers della Premier? È quel giocatore che ha fatto una grandissima stagione e che le squadre vorrebbero acquistare, ma le valutazioni sono elevate? Lo recono che ancora una volta Giuntoli sta cercando di lavorare ai fianchi di una società che ha necessità di fare determinate operazioni e sta cercando di incastrare qualcosa. Voglio parlarvi di Douglas Lewis, lo faremo in un video dedicato, voglio riportarvi, come ogni estate, i video analisi su quelli che sono gli obiettivi di mercato della Juventus e iniziamo a prepararlo oggi in live, perché oggi facciamo una diretta in cui andiamo a contare fisicamente le operazioni di mercato della Juve, vediamo se saranno davvero 20, 30, 40 o 50, e poi iniziamo a preparare questo video analisi su Douglas Lewis, voglio vedere. Tra l'altro Cobb Mainers di cui abbiamo parlato prima, ieri sera si è infortunato con l'Olanda, vecchio cuore bianconero è bastato accostarlo a noi ed ecco qua i problemi muscolari, vediamo che cosa succede. La mia opinione su Douglas Lewis, fermo considerando che io non ho mai visto delle partite della Stoneville a quest'anno e quindi non ho il background disponibile in questo momento per valutare il giocatore, però vi dico che lato nostro stiamo parlando di due giocatori, McKennie e Eiling, che hanno una scadenza nel 2025. E noi abbiamo capito che in questa sessione di mercato è proprio la volontà della Juventus sistemare quelle operazioni che diventeranno calde già da gennaio 2025, quindi quei giocatori che poi potrebbero andare in scadenza. Chesney, Perin, Pinsoglio, Chiesa, McKennie, Eiling, sono tutte operazioni che giunti della Juventus stanno trattando con un po' di anticipo, possiamo dire così, con priorità anche, perché sono quelle operazioni che diventano poi scomode. Quanto può valere McKennie? Quando può valere Eiling? Secondo me McKennie oggi, super giù, ha un anno dalla scadenza del contratto, è quel giocatore che non vuole rinnovare alle cifre a ribasso proposte dalla Juve. Siamo sui 20 milioni, eh? Non tanto di più, non tanto di meno. Eiling? Siamo sui 20 milioni, pure lì? Cioè quindi insieme potrebbero valere una quarantina? Forse è anche una cifra abbastanza elevata, eh? Con dei giocatori a un anno dalla scadenza. Più 20 milioni, siamo sui 50, 55, 60, con McKennie che ha bilancio per la Juve all'ultimo anno di contratto ha un ammortamento molto basso, perché è stato pagato una ventina di milioni già in origine, con Eiling che è un prodotto del settore giovanile, del vivaio, e che quindi è tutta plus valenza. Quindi soltanto 20 milioni di parte fissa più due giocatori in scadenza di contratto per arrivare a 50 milioni per un giocatore che ha portato l'Aston Villa in Champions. E se la guardiamo da questo punto di vista, dal punto di vista squisitamente aziendale, dirigenziale, non solo sportivo, perché stiamo parlando di un giocatore importante, potrebbe forse essere un ottimo affare, potrebbe avere ragione Marianella. Però voglio sapere anche le vostre opinioni qui sotto nei commenti. E dato che abbiamo parlato di Czesny, anche nella giornata di ieri, non so se avrete visto il video di Czesny e Ildis, che al termine di Polonia-Turchia, due a uno, si abbracciano, si scambia la maglia, sembra quasi un papà, Czesny, che saluta il figlioletto, Czesny che aveva già speso parole d'amore per Ildis, dicendo ho scommesso con un amico che entro cinque anni questo sarà pallone d'oro, e sappiamo che Czesny è vicinissimo, se non attaccato un po' come la crosta al formaggio, all'Al Nasr, all'Arabia Saudita, a Cristiano Ronaldo, ha un ingaggio mostruoso, veramente un ingaggio altissimo, e sembrano confermati anche questi 5 milioni di richiesta della Juventus per il cartello di Czesny. Mi ha un po' emozionato, no? Quella roba lì, perché sembrava davvero l'addio, sembrava davvero un... guarda, ti spiego, va così, è andata così, è stato bello giocare con te, ora credo in te, facci vedere, dimostraci che non mi sono sbagliato, quindi l'appello a Ildis è mantenere la parola, fare in modo che Czesny venga questa scommessa, sarebbe bellissimo per Czesny, sì, ma anche per noi e per Ildis, perché avere un pallone d'oro entro i prossimi 5 anni, sarebbe bellissimo vedere Ildis pallone d'oro al giro di 5 anni. Non voglio puntare alto come Czesny, però che possa diventare un giocatore fondamentale, decisivo per la Juve, sarebbe meraviglioso. Ieri ho fatto il discorso su Czesny dicendo che non ha fatto rimpiangere Buffone, ho visto che nei commenti vi siete un po' alterati, ma ragazzi non si parla di livello, cioè Buffone... E' là, c'è qui dietro, Buffone è lì dietro, del Piero e Buffone sono qui e resteranno sempre qui, perché sono del Piero e Buffone, sono irraggiungibili, sono inimitabili, secondo me Buffone non sarà mai raggiunto da nessun portiere nella storia della Juve, da adesso a mai, non ci sarà mai più nessuno come Buffone, però che dal punto di vista del campo Czesny abbia fatto spesso e volentieri alla fine dell'anno nel tirare le conclusioni la top nella classifica dei giocatori migliori di tutti gli anni, beh, secondo me bene o male siamo lì, magari può aver mancato una stagione, un paio di stagioni, ma anche concentriamoci nelle ultime tre, beh, nelle ultime tre, arriva la fine dell'anno, andiamo a rivedere i pagelloni, Czesny è sempre una parte più alta, che è sempre stato determinante sul campo, e quindi io mi auguro davvero che Di Gregorio possa essere un sostituto all'altezza di quello che è stato il sostituto all'altezza di Buffone, e ripeto, non di livello, ma di prestazione in campo, perché per me negli ultimi tre anni, o quattro anni, cinque anni, da quando Czesny alla Juve, difficilmente ho sentito la necessità di cambiare portiere, io capivo se c'era la possibilità di arrivare a zero a Donnarumma, e allora dici, fai un ragionamento, ma se no io non sentivo, non mi sentivo meno di quegli altri con il portiere, quindi un grosso in bocca al lupo a Czesny per questa nuova avventura, un grosso in bocca al lupo a Di Gregorio, perché vestire la maglia del primo portiere numero uno da Juventus, bisogna avere due coglioni così, secondo me, però anche qui voglio spostare il point of view, il punto di vista, non solo da quello emotivo, e ripeto, perdonate per la voce, ma oggi va così, ma da quello dirigenziale, che è giuntoli riesce a togliere otto anni dal portiere titolare della Juve, 34 contro 26, sono otto anni, riesce a togliere l'ingaggio di uno dei giocatori più costosi all'interno della rosa della Juve, riesce a monetizzare il cartellino per 5 milioni, riesce a prendere in prestito quello che è stato nominato il miglior portiere dell'ultima serie A, a 18 totali più 2 di bonus, e quindi un quarto del cartellino Lopai con l'accessione di Chesney, cioè, dal punto di vista squisitamente dirigenziale, dal punto di vista squisitamente economico, quello che vuole, è un'operazione estremamente positiva, poi a differenza di Douglas Lewis, che secondo me è un upgrade rispetto ai McKennie o agli Ealing, bisogna vedere se Di Gregorio riuscirà a mantenere gli standard di rendimento di Chesney, però è ovvio che quando, cioè il portiere è sempre secondo me il punto più delicato di una squadra, guardate che trovare dei portieri all'altezza, trovare dei portieri che possano ricoprire ruoli di primo livello in una squadra top per tanti anni, non è mica facile, non è facile per niente, quindi speriamo che giunto l'Indy Gregorio abbia trovato l'uomo giusto e speriamo che possano continuare a lavorare con questa volontà di fare bene, perché io avverto questa volontà di fare bene, anche ieri parlavamo di quelle che potevano essere le richieste più alte per Calafiori, sono convinto che la Juve non si farà prendere per il colletto, come non si farà prendere per il colletto per Copmainers, riuscirà a lavorare per portare a casa i giocatori che vuole ai prezzi che considera giusti e questa è assolutamente la cosa migliore che sento di provare in questa estate, io sono carichissimo, io sono carichissimo, perché vedo che si sta lavorando con una volontà e cioè quella di fare il bene della Juve generale, quindi rimettere a posto i conti, cercare di formare una squadra forte, cercare di incastrare le operazioni, cercare di non farsi prendere in giro gli altri club, cercare di fare la voce grossa, sono tutte cose che ci sono mancate e sono queste piccole, grandissime cose che poi ti portano ad essere una squadra che si accontenta di arrivare in Champions, essere una squadra che apre i cicli e vince per tanti anni in Italia e magari farà bene in Europa, non dico vincere in Europa perché secondo me quello è un po' più complicato. Ma fatemi sapere le vostre opinioni qui sotto nei commenti, sono a disposizione per anche qualche commento che poi diventerà spunto di riflessione per i prossimi video come è successo anche oggi, ma poi ricordatevi che ci vediamo oggi pomeriggio proprio qui in live per affrontare tante altre tematiche. Ciao a tutti!